Ah, pranzo squisito, vero gatto gigante? Sì, ma ho mangiato meglio. Ah, vado solo a fare un giro. Perché? Ma così, non so che fare. Tu vieni? Eh, vado in buono, tu in attento vai. Ok. Te lo giungo poi. Va bene. Cos'è stato? Rovina qui dietro. Oh, scuritor. Non ce l'hai fatta. Se io non riesci a bocciare allo sciapone. Nascoltiamo. Allora, hai capito? Io sono il tuo capo. Adesso devo fare quello che ti dico. Ora vada e fare degli scherzi. Così lei sarà confusa. Eh, lo faccio scuritor. Ok, vado. Mi sto arrivando. Allora, mi vado a prenderci dove. Mi metto qua dieci e guardo chi è. Ok, vai. Ma scurito, deve essere nascosta. Fin dietro, ok? Ma sento i suoi passi, ma non lo vedo. Non riesco a capire. Mi prendo il ricro. Cosa? Ah, chi l'ha spostato così indietro? Lo scherzo, si muove da sola. Aspetta, no, non è lo scherzo. Uhu! Se non ho sbaglio. Il cattivo deve essere nero come lo scherzo. Dove non lo scherzo più. Come può andare? Il parcheggio qui. Ma è sceso? Io non lo vedo. Che sia un camionante che si... Che mi otizzia. Boh. E se sia un camionante? Cos'è stato? Qualcuno? E tu che sei? Mi stavi spiando? Vieni. No! Ah! E lasciami! Ma perché? Lasciami andare, brutto camionante. Ma quale camionante? Io non lo sono. Sì, comunque vai e prendi il colore. Dove sei? Bruttezza. Io sono invisibile. 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 Cosa? Sì, comunque perché mi hai catturata? Un tizio oscurator mi ha detto che... Tu... Eri ricca. E ha detto catturala, poi gli prendi i soldi. Dammi i soldi, bamboccia. E tu credi a quell'oscurator. Io non sono ricca, sono solo Francesca l'avventuriera. E toglierei il sole perché sono davvero micca. Ascolta, bugiardo, ha quattro soldi. Oscurezza il mio rezzo che hai i soldi. E lui non mente. E come fai a dirlo? Controlla pure nelle mie tasche. Ok. Mi stendici. Aia! E ha i miei capelli? Il tappeto? Non mi serve. Oretti non è meglio. Non ha più niente, smettila. Aiutatemi a alzarmi. Allora, vivi ragione. Oscuretor mi ha mentito. Certo, lui è... È... Cattivissimo. È antipatico. Bugiardo. È... È prepotente. Grazie. Se non ti avrei incontrato, sei stato ai suoi ordini. E beh, l'avrei fatto per niente. Grazie. Ok. Sai, sei molto simpatico in fondo. Già, potremmo diventare anche buoni amici. Se sei una persona così bella dentro, perché sei trasparente? Beh, io ero bello e mio padre voleva così trovarsi una ragazza. Però io non... Lui mi offriva le ragazze più belle. Io non volevo trovare l'amore per bellezza. E quindi mi sono fatto un incantissimo di trasparenza. Non so per quanto tempo, ma è durato fino ad oggi. Beh, magari possiamo pulirne po' insieme e se diventeremo amici, io darò l'antidoto. Non mi sembra una cattiva idea. Andiamo a mangiare la torta per merenda. Ok. L'ultimo che arriva è un pollo marcio. Ehi, aspetta! Anni banzo per samba!